Oggi parliamo di Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati dal vostro Roberto Seda. Un Roberto Seda questa settimana un po', come si direbbe nell'Alta Italia, appuntorato e perciò mi scuso se la voce magari non è proprio quella che si potrebbe desiderare. Prima di iniziare penso che sia anche il caso di fare un attimo un riassunto dei nostri mezzi per metterci in contatto, perché ultimamente i contatti, diciamo, languono. Invece a me fa piacere se voi mi fate pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti sui libri di cui parlare e anche eventualmente le vostre critiche, perché no. Per cui vi ricordo che io ho una mail che è rsedda-tiscali.it e che pubblico tutte le puntate di Oggi parliamo i libri sul mio blog www.robertosedda.it. Oggi parliamo i libri ha anche una pagina Facebook che si chiama così Oggi parliamo i libri, perciò insomma i modi per mettersi in contatto ci sono. E naturalmente vi ricordo anche che invece sul sito di Radio Calaritana ci sono sempre tutte le informazioni su tutti i programmi, questo io non lo dico mai, sono colpevole perché la radio sostiene anche questa trasmissione e perciò questa volta mi fa piacere recuperare. Dunque questa è una puntata un po' particolare, intanto perché è stata rinviata di una settimana, vi ricorderete che era prevista per la settimana scorsa e che invece poi l'abbiamo rinviata, ma poi è perché quando ho deciso un po' la scaletta dei gialli di cui parlare ho pensato che questa che vi presento stasera fosse una serie interessante, un'autrice piuttosto nota, anche molto di successo in Italia e che perciò non potessi non dedicare una puntata. Avevo letto solo un paio dei gialli di questa serie, perciò l'ho messa un po' così in avanti, intanto ho cominciato a parlare di altri e mi sono riletto tutti gli altri gialli della serie. E a un certo punto, e questo è il mio dubbio, non mi sono piaciuti più. Ecco, mi piacevano quando ho cominciato a leggere tutta la serie, adesso mi piacciono meno. Un po' questo è il tema, ecco, cercherò di dire pro e contro, è un po' diverso, di solito io soltanto lodo i libri di cui parlo, questa volta faremo forse una cosa un po' più di discussione. Intanto diciamo subito di che cosa stiamo parlando. Vi presento stasera un'autrice spagnola che si chiama Alicia Chimenez Bartlett, o Bartlett, in realtà io sono sempre un po' incerto su queste pronunce, che ha una serie di libri che sono pubblicati in Italia da Sellerio che hanno per protagonista una coppia di poliziotti che agiscono principalmente a Barcellona. E sono una coppia uomo e donna, nel senso che l'investigatore principale è una ispettrice della polizia, e cioè si chiama Petra Delicado. C'è qui un gioco di parole sul nome perché Petra è una sensazione di durezza, ovviamente, mentre Delicado è tutto il contrario. Ecco, per cui c'è già qui una specie di scherzo proposto dall'autrice. Il vice di Petra Delicado è invece un poliziotto sanguigno, terragno, che viene dalla campagna, con pochi grilli per la testa, molto sbirro per certi aspetti, che si chiama Firmin Garzon. C'è qui, nella costruzione della coppia, un gioco piuttosto raffinato anche da parte dell'autrice, che sapientemente usa tutta una serie di richiami. Intanto sappiamo benissimo che il tema della coppia è tipico della letteratura poliziesca, fin dalle sue origini, pensando alla coppia Sherlock Holmes e il dottor Watson, ma anche Poirot ha un assistente, noi nelle nostre puntate abbiamo parlato di Nero Wolf con il suo assistente Archie Goodwin e così via. Per cui questo è un po' il tema su cui sceglie di lavorare Alicia Jimenez. In qualche modo i gialli sono una letteratura di genere forse ancora più ripetitiva di quasi tutte le altre letterature di genere, in cui gli ingredienti sono pochi e questo è la coppia e uno degli ingredienti principali. L'abilità del giallista sta a quella di proporla in una maniera nuova e inaspettata. E la Jimenez sceglie la sua qualità particolare nel non caratterizzare i due personaggi dal punto di vista dell'abilità. Cioè Sherlock Holmes è molto più bravo di Watson, anzi Watson non capisce proprio niente. Qui invece il contrasto tra i due è giocato non sul piano delle competenze ma sul piano ideale. Ma di questo, parliamo dopo la pausa musicale, ho scelto il brano di una cantautrice spagnola che era nota in Italia forse più qualche anno fa e si chiama Bebe, il brano è Malo. Questo era Bebe con Malo, una cantante che sicuramente piacerebbe a Petra Delicado perché Petra Delicado è un idealista e i testi di Bebe sono pieni di riflessioni profonde, certamente non è una musica commerciale. Vi dicevo prima che la Halissia Jimenez cerca di caratterizzare la sua coppia di strani investigatori in una maniera innovativa e il contrasto è questo, che Petra è un idealista, è una, per certi aspetti, un cavaliere errante, una persona, un paladino, una persona che insegue degli alti ideali, che vede il mondo così com'è e si indigna perché non è come dovrebbe essere. Al contrario Firmin Garzon è quanto di più normale ci può essere, sa che le cose vanno in un certo modo e in un certo senso pensa che se le cose vanno così, così andranno per sempre, che le persone sono dei mentitori. Garzon è abituato a avere a che fare con delinquenti, la sua visione dell'umanità è legata a questo suo stretto campo di osservazione che ha avuto, perciò si aspetta un po' sempre il peggio dalle persone, ma contemporaneamente è anche una personalità molto solare, per contrasto, mentre Petra è in fondo un po' lunattica. Questa sua indignazione, questa sua voglia di cambiare il mondo sconfina poi in degli abissi di depressione, diciamo. Garzoni invece, siccome non si aspetta niente, per molti aspetti vive molto più felice, più sereno, è molto più capace, entrando in una squallida bettola durante un'indagine, di bersi un buon bicchiere di vino con gli operai, con le persone del popolo che stanno lì e di godersi la giornata. Mentre magari Petra noterà la sporcizia, noterà l'inconsistenza dei rapporti umani, il fatto che questi uomini si abbruttiscono guardando delle brutte partite di pallone, insultando magari giocatori con commenti razzisti e così via. E qual è la figura paradigmatica che evocano i gialli di Alicia Chimenez? E' quella della coppia di Don Quixote e Sancho Panza. Non so se vi era venuto in mente, ma anche leggendo le descrizioni fisiche dei due ce li possiamo immaginare. Petra alta, segaligna, scattante, dinoccolata e dall'altra parte invece Garzon tondo, basottello, tarchiatello con dei baffetti improponibili risalenti agli anni 50 e così via. C'è questa idea di provare a mettere, così come Cervantes metteva a confronto con una società che già non era più feudale due personaggi che erano di un'altra epoca, così la Alicia Chimenez mette due personaggi che per certi aspetti sono di un'altra epoca dentro le trame criminali nostre e comuni. Ora, qual è il problema? Perché sinora vi ho descritto un tema piuttosto interessante e in effetti questi gialli meritano, sono scritti bene, sono molto vivaci, i duetti e i continui contrasti tra Petra e Firmin sono molto interessanti e anche la descrizione d'ambiente spagnola è piuttosto valida. Che cosa è la questione aggiuntiva? Un po' è questa, che ogni puntata ha un tema, in un certo senso si scoperchia un ambiente, si mette alla luce un inferno della vita quotidiana. Può essere lo sfruttamento minorile, possono essere i combattimenti dei cani, possono essere l'ambiente delle sette, possono essere le violenze domestiche. Cioè, ogni volta Petra e Firmin sono chiamati a confrontarsi con una verità scomoda del nostro vivere civile. Ecco, dopo un po' che li leggevo tutti in serie, questi gialli, questo lavoro di denuncia sociale, devo dire, mi è sembrato un po' manierato, un po' poco motivato, in fondo, un po' meccanico. E questo getta una luce abbastanza discutibile anche in fondo su tutta l'articolazione del lavoro. Cioè, l'impressione che, a fronte dei contrasti divertenti e della commedia dell'arte, tra queste due maschere di Petra e di Firmin, sotto, sotto, non ci sia poi tantissimo. Ma, in qualche modo, riapprofondiremo il discorso la settimana prossima, quando parleremo di gialli al femminile, perché ci sarebbe ancora qualcosa da dire su Petra Delicado. Vi ricordo che, oggi parliamo i libri, va in onda il giovedì alle 19.10 e in replica il Verdi alle 8.30 del mattino. La settimana prossima, come vi dicevo, parleremo di gialli al femminile. Buona settimana, buone letture. Buona settimana, buone letture.